Perchè questa tizia? Cioè sì che sto registrando. Perchè questa tizia? Ciao a tutti. Oggi ci dovremo fare bannare dalle case. Quindi dobbiamo cercare delle case. Questa. C'è una tizia. Andiamo. Siamo ritornati al punto di inizio. Ora gli chiediamo dov'è. Siamo ritornati al punto di inizio. 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 Vediamo. Siamo ritornati al punto di inizio. 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 Ora vi chiediamo di salutare. Ora vi chiediamo se si è scritta questa tizia. Vediamo se si è scritta. Scriviamo che è su YouTube. Scriviamo YouTube. Vediamo se lo capisce perché non me lo mette intero. Sì. Devo farmi le case. Vediamo se accetta altrimenti lo facciamo da soli. Aspettiamo che scrive. Sì ma dalle case di Brookhaven. Quindi iniziamo. Aspettiamo. Speriamo di farci bannare da tutte. Mi sono incastrata. E un'altra mi sono incastrata. Cioè. Perché non fa... Non... Si riesce. Andiamo di qua che è meglio. Qua non c'è. Non ci sono gli appartamenti. Andiamo di qua. Non so se ci riusciremo. Non so se ci riusciremo. Penso di no. Però... Da tutte le case è quasi impossibile. Sono incastrata. Almeno ci dobbiamo fare bannare da una. O da due perché è impossibile. Perchè. Eh... Sì. Aspetta. ma perché ora non posso? accettata intanto nella chat cosa scrivono? si ma dai ma perché scrivono queste cose? la chat ce la leggono tutti e devo fare anche un video e devo leggere queste cose come si fa? chiudere la chat allora andiamo su questa si guarda qua c'è anche il letto però l'ho persa ecco di che è questa cosa? non capisco è quasi impossibile bannarci magari qua ci sono prendiamo prendiamo anche il nostro e proviamo a termine ok ok allora questo no questo ecco qual è il nostro io che devo fare il video non sono in tanto non entra non entra mi sono incastrata ecco ecco allora proviamo a entrare da qua no non si può non si può entrare da qua si sono entrata mi hanno bannato mi hanno bannato finalmente mi hanno bannato finalmente 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 14 minuti per essere bannati da una casa ora non so se ce la facciamo a fare un'altra casa no allora finiamo il video qui e ciao